Un pomeriggio di trekking urbano dedicato alle donne e contro ogni tipo di violenza. Torna così ad Arezzo Passi in Rosa, una camminata giunta alla sua quarta edizione organizzata dall'Associazione Culturale Giovanile Liria con il patrocinio del Comune e della Provincia di Arezzo di Prontodonna e con la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo. Quest'anno con tante novità, innanzitutto non è più una passeggiata serale ma sarà di pomeriggio, sarà alle 17.30 partenza da Piazza Zucchi a Saione, il quartiere che è sempre stato al centro di questa iniziativa, ma quest'anno per la prima volta andiamo oltre, vogliamo andare più in alto e mandare un messaggio ancora più alto, se così si può dire, arrivando fino alla fortezza. Lo faremo a tappe, quindi la seconda tappa sarà dentro l'anfiteatro romano, la terza tappa sarà la Minerva di Colcitrone, anch'essa una statua vittima più volte di violenza, perché è stata vittima purtroppo di tanti atti vandalici, quindi come anche l'arte può essere vittima di violenza, e poi fino alla fortezza dove affronteremo il tema delle donne afghane e lanceremo simbolicamente delle lanterne come simbolo di speranza e di vicinanza verso tante donne che stanno soffrendo in questo momento. Una passeggiata aperta a tutti, ovviamente in piena sicurezza, aperta anche agli amici a quattro zampe. Sì, è aperta a tutti, noi vogliamo coinvolgere più persone possibili, famiglie, anziani e per tutti, amici a quattro zampe, quindi anche con i vostri amici animali, noi vi aspettiamo, perché tutti insieme possiamo dare un bellissimo messaggio.